Ha firmato le delega al Presidente della Giunta di istituire queste due commissioni, questo giunge dopo un lungo percorso di confronto tra la Regione, il Ministero, le Forze dell'Ordine e la Questura. Noi a breve costituiremo queste due commissioni di inchiesta con delle personalità di alto livello e di imparzialità che cominceranno a lavorare più presto. A breve intendersi, parla di giorni o comunque settimane? Non ho di giorni sicuramente, adesso con le delega possiamo costituire, stiamo cercando e rettare questi funzionali di alto livello, proprio di imparzialità che possano iniziare a lavorare più presto. Quindi anche da fuori a Regione arriveranno queste figure? Beh, penso di sì. In accordo e sempre in contatto col Ministero stiamo proprio verificando queste possibilità di nominare dei personaggi come dicevo prima. Ma ecco, chiaramente poi queste commissioni lavoreranno con le Forze dell'Ordine perché sono le commissioni che avranno bisogno per tutti i loro atti ispettivi dell'uso delle Forze dell'Ordine che hanno finora collaborato al massimo. Sulla vicina per cui qui oggi ci dice qualcosa dopo? Sicuramente sì. Grazie.